Si attiverà a mercoledì 6 novembre nel territorio di Pozzuoli la Task Force per verificare quanto è emerso dalle rivelazioni del pentito di Camorra Carmine Schiavone. Il sindaco Vincenzo Figlioli aveva chiesto verifiche nell'area di Licola, ma ora farà estendere i controlli anche al lago Lucrino, indicato da Schiavone, come luogo di sversamento dei rifiuti e all'altro bacino Flegreo, Laverno, già in passato in più occasioni indicato dalle associazioni ambientaliste come luogo di sversamento da parte dei casalesi di rifiuti tossici. Mercoledì prossimo inizieranno i sopralluoghi e i prelievi richiesti dall'ARPA che all'Asla Napoli 2 Nord dal comune di Pozzuoli, d'intesa con l'assessorato regionale all'ambiente, ha annunciato Figliolia, per monitorare la situazione ambientale sul litorale di Licola e per verificare il presunto inquinamento da rifiuti tossici, come denunciato alcuni mesi fa dall'ex collaboratore di giustizia Carmine Schiavone. I controlli già pianificati da tempo su richiesta, ma dopo la desecretazione dei verbali della Commissione parlamentare sulle comafie del 1997, con l'indicazione del lago Lucrino come luogo di sversamento e interramento dei rifiuti tossici, fanno chiedere all'ARPA, all'Asla Napoli 2 Nord e all'assessorato regionale all'ambiente di estendere con urgenza questi controlli anche a Lucrino, con lo scandaglio dei fondali in più punti, in modo da accertare se vi siano stati tombati fusti tossici o rifiuti speciali. Insieme ai cittadini di Pozzuoli chiediamo chiarezza, senza indulgere in allarmismi, ha concluso Figliolia.